carissimi amici e amiche bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato ai nuovissimi e siamo giunti alla parte conclusiva diciamo possiamo potremmo anche chiamarla una appendice del nostro ciclo di catechesi perché in teoria con il paradiso dovrebbe essere terminato in realtà non è così un punto primo perché ci mancano ancora quelli che si chiamano in teologia i nuovissimi mundi noi però abbiamo visto i nuovissimi hominis cioè quello che attende alla vita di ogni singolo al termine del suo pellegrinaggio terreno quindi giudizio inferno il purgatorio il paradiso che sono delle situazioni che accadono immediatamente dopo la morte corporale oggi ne vediamo un'altra che appunto un appendice perché è una è una condizione oggi messa in discussione da più di molti che quella del limbo terminata la trattazione sul limbo dovremo poi aprire il capitolo sui nuovissimi mondi cioè la parousia il ritorno di gesù nella gloria la risurrezione della carne il giudizio universale e la vita del mondo che verrà amen quindi abbiamo ancora un tratto di strada da da percorrere ora breve introduzione sul limbo il limbo penso che tutti sappiano era presente e nominato nell'immortale catechismo di san pio decimo come vedremo a suo tempo l'attuale catechismo non ne tratta semplicemente non non ne parla non non dice che non esiste ma non ne parla più e non ne parla più perché evidentemente nella redazione del nuovo catechismo sono state ascoltate le istanze di parte della teologia la maggioranza per la verità che pretenderebbe di poter affermare con una certa scioltezza che il limbo non esiste peraltro io ho anche letto più di qualcosa in giro lasciando insoluti tutta quanto una serie di problemi teologici che non si possono diciamo così sia beh questo è un problema pazienza rimane insoluto pazienza e non può rimanere non può essere pazienza perché capite con con la tematica connessa al limbo sono connesse molte altre tematiche per esempio il valore l'importanza del battesimo in sé secondo l'importanza del battesimo dei bambini cosa si battizza fare un bambino cioè se non esiste il limbo tanto per cominciare a fare una domanda che cosa lo battesia fare un bambino sapete che recentemente tra le varie castronerie che stanno di nuovo dicendo in giro hanno letto qualche giorno fa c'è un articolo da parte probabilmente sarà qualcuno di quelli della dell'associazione degli ate e dei razionalisti che comincia ha ricominciato a ad auspicare come dire la proibizione a livello legale di battezzare un bambino perché sarebbe una violazione di un suo diritto perché tu gli imponi la religione quindi lo farà lui da grande no adesso a prescindere da queste da queste sciocchezze d'accordo perché poi ne parleremo a suo a suo tempo e c'è però un problema cosa lo battezza fare un bambino se non esiste il limbo potresti aspettare anche fino a 7 8 anni d'accordo perché fino a 7 8 anni peccati personali il bambino non li farà quindi se muore va direttamente in paradiso come sosterrebbero non si sa in base a quale motivazioni questi questi teologi che si chiamano così però io lasciamo perdere che cosa stiamo a fare i bambini e numero due che cos'è il peccato originale come inerisce a noi nel momento in cui siamo concepiti quali conseguenze produce l'essere macchiati del peccato originale non semplicemente portare le conseguenze perché le conseguenze le portiamo tutta la vita terrena anche dopo il battesimo il bambino porterà le conseguenze del peccato originale le portiamo tutti quelle non sono eliminabili in questo mondo possiamo soltanto sperare qualcosa di migliore per chi conosce questa materia per chi ci crede con l'avvento tanto desiderato e auspicato del regno della divina volontà ma per il resto non c'è nessuna speranza di liberarsi dalle conseguenze del peccato originale e anche qualora regnasse la divina volontà sicuramente il regno della divina volontà non comporterà l'eliminazione della morte corporale certamente al cento per cento quantomeno quello che è la conseguenza principale del peccato originale quindi quella ce la portiamo tutti quanti dietro ecco quindi le questioni in campo sono queste peraltro come vedremo abbiamo già incontrato qualche passaggio il magistero della chiesa è intervenuto non ha formulato un dogma come dire affermando chiaramente con definendo quindi una verità di fede l'esistenza del limbo ma a livello neanche troppo indiretto come vedremo ha affermato in più di qualche certo ha fatto delle affermazioni in cui senza nominare esplicitamente con il termine limbo il limbo che tra l'altro il limbo non è un termine biblico come vedremo nella sagra scrittura si parla dello sceol cioè del regno dei morti però le affermazioni del magistero della chiesa non possono essere come dire accantonate e mandate in soffitta nel dimenticatoio con nonchalance perché sono affermazioni impegnative e dogmatiche non pastorali quindi un'altra cosa importante anche i negazionisti diciamo così del limbo non possono negare il fatto che esistesse perché di limbo si parla in due sensi anche san tommaso ne parla in questi sensi ne parla del limbo dei santi padri e il limbo dei bambini cos'è il limbo dei santi padri il limbo dei santi padri è quello che nella sagra scrittura come vedremo adesso ci sono tantissimi riferimenti credo che non li leggerò tutti quanti altrimenti diventa veramente una conversazione estremamente pesante perché sono dei singoli versetti dove si parla di questo regno dei morti no sheol in ebraico sono tantissimi l'antico testamento anche negazionisti nessuno può dubitare perché altrimenti andiamo a riscrivere il cristianesimo che esisteva il cosiddetto limbo dei santi padri cioè appunto questa dimora dei morti quindi questo luogo che non era l'inferno evidentemente e se qualcuno era stato abbastanza santo non era neanche il purgatorio ma era un luogo di attesa credo che nessuno pensi possa pensare che san giuseppe o san giovanni battista siano andati in purgatorio evidentemente no ma san giuseppe san giovanni battista sono morti prima della morte di cristo san giuseppe addirittura prima dell'inizio della vita pubblica san giovanni battista e gesù stesso gli evangelici narrano che il martirio è venuto prima della morte di gesù sarà da pensare che questi stavano in purgatorio o che abramo stava in purgatorio vabbè alcuni eseggeti moderni dicono che abramo non è esistito oppure questo si sente dire oppure con isaia che è morto martire segato vivo stava in purgatorio no ma non stavano in paradiso però su questo almeno che credo a quanto a quanto ne so erano tutti quanti d'accordo perché tu puoi farti tutti i martiri che vuoi puoi essere quanto santo vuoi ma se non viene compiuto il sacrificio redentivo che riconosce la romanità con il padre che paga il prezzo del peccato originale e lo distrugge che è quello che ha fatto gesù con la passione una morte di croce in paradiso non ci entra nessuno questo mettiamocelo sempre bene in testa perché noi nostro signore gesù cristo e perdonatemi non è che dobbiamo soltanto adorarlo lo dobbiamo evidentemente adorare ma ci si dovrebbe seccare la lingua perdonatemi a ringraziarlo perché se non avesse fatto quello che ha fatto amici cari io oggi non stavo qui ma questo il che sarebbe poco danno insomma che io non sia qui pazienza insomma non che se ne importa il problema è che in paradiso non c'entrava nessuno manco san giuseppe manco san giovanni battista manco abramo manco isaia d'accordo neanche tutti quanti i santi e martiri venuti dopo dopo nostro signore nessuno non c'era speranza non c'era chance per chi le conosce c'è una bellissima ora della passione delle 24 ore della passione che sono veramente un una raccolta dorata la diciassettesima ora quindi quando c'è volete gesù barabba la condanna a morte di gesù no che cosa facciamo con gesù i giudei dicono sia crocifisso ma c'è un passaggio che è veramente commovente e drammatico il padre fa ecco a quella quel grido blasfemo perché dalla parte di chi voleva la morte di gesù non era un desiderio che morisse per la loro redenzione era una voglia di direva di levarlo di di mezzo insomma no ma il padre dice ti voglio morto e morto crocifisso la madonna la madonna la madonna il figlio ti voglio morto e morto crocifisso tutti gli angeli santi tutti i morti lo vogliono a gesù e a un certo punto l'autrice la serva di dio luisa piccarreta dice mi tocca dirlo pure a me che ti voglio morto e morto crocifisso fammi morire lo devo dire per forza voi pensate in che tragedia che 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 ci troviamo no pregare intensamente quest'ora della passione c'è stata piangersi tutte quante le lacrime possibile immaginabile cioè colui che ci ama immensamente colui che la bellezza stessa la bontà stessa l'amore stesso io devo chiedergli devo supplicarlo di farsi ammazzare in quel modo orrendo perché non c'è altro modo per andare in cielo è una tragedia pensiamoci bene pensiamoci ecco quindi chi nega il limbo tra le altre cose credo che svinuisca anche non di poco il valore del sacrificio di nostro signore evidentemente spero che non si renda conto o evidentemente è come dire è un danno collaterale come li chiamano oggi insomma no però ma c'è la misericordia di dio che cosa ha fatto un po' il ragazzino ma certo che c'è la misericordia di dio figura se non c'è la misericordia di dio stavamo tutti all'inferno stavamo ripeto io per primo ok tutti all'inferno ma la misericordia di dio ha delle modalità di funzionamento non è che funziona così ma proviamo ad essere un attimo intelligenti no perché la fede chiama l'intelligenza la la vera teologia è l'intelligenza della fede i teologi il primo grande teologo il primo che meritò l'appellativo di teologo san giovanni il teologo l'angelo di san giovanni cioè certo che c'è la misericordia di dio ma non è che dio serviva da una mattina scusate ma non avrebbe potuto farlo come dire bisogna fare per forza questa carneficina del figlio di dio fatto uomo poteva fare diversamente no va bene faccio misericordia appunto e basta potrebbe fare anche misericordia anche chi non si pente come vorrebbe qualcuno in teoria di nuovo fa quello che vuole d'accordo e non deve rendere conto di quello che fa ma come spiega san tommaso molto bene se dio fa una cosa e sceglie una cosa tra le infinite possibili quello che è successo con l'opera di nostro signore gesù cristo è la cosa più perfetta più conveniente più giusta che si doveva fare per compiere l'umana redenzione e siccome noi stiamo parlando non di pincopallino ma del padre eterno cioè dio dio l'essere perfettissimo l'essere perfettissimo il creatore signore del cielo e della terra non fa se non cose perfettissime dice ma no ce ne sarebbe una perfetta non perfettissima non la fa lui fa solo cose perfettissime quindi la redenzione è avvenuta così non perché dio fosse necessitato non ci fossero in teoria altri milioni di modi possibili miliardi trilioni immaginabili ma perché questo quello che è stato era la cosa più perfetta più giusta e più sacrosanta da farsi e quella si fa d'accordo quindi era necessario fare un pochino questa introduzione mi dispiace se mi sono dilungato o se ho magari un po' tediato gli ascoltatori però prima di entrare nell'argomento dobbiamo focalizzarlo e dobbiamo anche vedere tra virgolette mi si perdoni la posta in gioco qui non stiamo facendo cioè ma si esiste o non esiste ma che gli fa cioè in teologia non esiste che gli fa perché le verità di fede sono tutte quante concatenate l'una con l'altro se tu levi un tassello non è che dici vabbè levo un tassello vabbè ho tolto un anello della della catena no unisco gli altri due che sono rimasti questo lo butto e la catena sussiste lo stesso no non funziona così perché se ne togli uno è la fine di tutto se ne togli uno è la fine di tutto perché togliere la catena del limbo anche se ripeto il limbo non è un dogma di fede come il purgatorio l'inferno il paradiso ma togliere questa catena fa saltare tutta quanto un'altra serie di verità di fede e non puoi una volta che sono saltate farle rimanere perché se questa cosa non esiste se sia un parroco vanno due genitori a dire scusa un attimo mai a mio figlio che lo devo battezzare fa perché lo devo battezzare non è l'innocente per antonomasia se dio non voglia di dovesse prendere un coccolone o gli casca un coppo in testa e muore che non va diritto in paradiso sì no che peccati ha fatto un bambino e allora mi spieghi parroco perché lo devo battezzare sto ragazzino aspettiamo un po con calma no giusto o no e quindi la prassi che ci sta adesso in giro di battezzare i ragazzini a 3 4 5 6 7 8 10 12 mesi nessun problema giusto tanto che fretta c'è tanto cioè oppure qualcuno che magari intende il sacramento del battesimo come una cosa fatta tanto facciamolo siamo siamo in italia è un'altra delle tante scuse perché purtroppo molte volte questa è una cosa molto triste mi dispiace dirla però voglio sperare che non sia proprio così o che non sia così nella maggior parte dei casi però sapete quando quando si parla di speranza c'è c'è una versione positiva nel parlare comune ovviamente non deve tutto erogare della speranza è una negativa no cioè la speranza è l'ultima a morire è la versione positiva ma chi di speranza vive disperato muore è la versione negativa non vorrei che fosse la seconda ma molte volte spesso e volentieri ciò che ha a che fare oggi con la fede diventa un'occasione per fare baldoria vogliamo le prove battesimo pranzo comunione baldoria cresima baldora baldoria matrimonio se quando c'è quanta gente cioè adesso vanno convivono fanno dico ma dopo tanto dopo ci ci sposiamo ma che non abbiamo ancora i soldi e non abbiamo ancora i soldi e allora i soldi a che servono i soldi tu pensa che il matrimonio si può cercare pure in sacrestia basta e basta e basta che fai il corso prematrimoniale te lo faccio pure io in dieci lezioni c'è nessun problema fai la pratica te la faccio io e ti porti quattro testimoni fatto il matrimonio che problema c'è non c'è i soldi e che fa pazienza che di che è indispensabile fare la festa annunziale è meglio fare la festa annunziale oppure meglio andare a fare un autotreno di peccati mortali di pubblici scandali perché quello è la pubblica convivenza è un scandalo anche se oggi apri di cielo ma è così era è sempre resterà così matrimonio natale vogliamo parlare di natale una scusa fa baldoria no pasqua peggio ancora quindi allora dobbiamo dobbiamo fare attenzione a tutte queste cose perché evidentemente le cose non stanno così non stanno così allora andiamo a vedere a cominciare sta analisi di questo limbo allora nell'antico testamento ci sono ben 65 ricorrenze per questo che dico ora andiamo a a tutti perché sennò veramente diventa diventa complicato no diventa molto complicato però qualcuna magari la possiamo mettere tanto tanto per renderci conto no il termine sheol sheol è la dimora dei morti se ne abbiamo 65 nell'antico testamento e due una delle quali molto significative perché 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 viene da quella viene tratta l'articolo di fede del simbolo apostolico non del simbolo di nicea costantinopoli ci sono soltanto il simbolo apostolico discese agli inferi perché sheol si traduce anche con inferi attenzione che inferi non è l'inferno anche se a volte queste due cose sono trattate specialmente nel linguaggio arcaico come sinonimiche sinonimiche vuol dire che significano la stessa cosa gli inferi è la dimora dei morti l'inferno è la dimora dei morti dannati è un'altra cosa allora ci sono 65 ricorrenze nell'antico testamento facciamo così ne vediamo qualcuna in giro cominciando dal libro della genesi per esempio tra le tante abbiamo genesi per esempio 37 35 che è la prima ricorrenza dell'antico testamento stiamo nel contesto di giacobbe della storia di giacobbe giacobbe praticamente teme che suo figlio giuseppe sia morto sapete che giuseppe non era morto non era stato venduto in egitto no giuseppe giacobbe si tracciò le pezzi si pose una tela di sacco attorno ai fianchi e fece tutto sul suo figlio per molti giorni tutti i figli e le figlie vennero a consolarlo ma egli non volle essere consorato dicendo no io scenderò in lutto da mio figlio negli inferi e il padre suo lo pianse vedete in ebraico tanto perché possiamo capire il termine appunto lo sheol è chi ered el bne avel sheolah sheolah in ebraico che appunto deriva da sheol e sheol appunto che che anche un nome proprio ma è quello che i romani chiamavano ade o il mondo della morte d'accordo questa è la prima ricorrenza poi ce ne sono una montagna nei nei salmi no per esempio uno molto molto famoso uno che si applica anche al nostro signore dovrebbe essere questo dovrebbe essere il 16 10 speriamo che non mi sono sbagliato tra i tantissimi meno male non mi sono sbagliato ricordate quel bellissimo salmo no mi indicherai il sentiero della vita gioia la vita nella tua presenza a un certo punto dice per questo gioisce il mio cuore esulta la mia anima anche il mio corpo riposa al sicuro perché non abbandonerà non abbandonerà la mia vita negli inferi li sheol ne lascerai che il tuo santo il tuo santo veda la corruzione questo salmo è stato è uno dei salmi cristologici applicato al nostro signore gesù cristo no non abbandonare la mia anima non la mia vita perché il termine ebraico nafshi nefe significa anima in greco infatti c'è psio ken non semplicemente la vita ecco quindi è meglio tradurre anima tanto è vero che la vulgata traduce non è in dire l'inques anima mea vedete in inferno traduce la vulgata questo interscambio del del vocabolario latino no perché l'ade era un concetto caro al mondo del paganesimo che 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 si immaginava insomma questo particolare regno dei morti caratterizzato da connotazione pagana adesso però non 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 apriamo restante argomento se non finiamo più no di citazioni di questo genere sono una montagna ci sono i salmi e salmi saranno almeno una quarantina se bastano di citazioni il coelet il cantico addirittura al cantico dei cantici il profeta isaia presenta diverse citazioni il profeta ezechiele diverse citazioni comunque per chi ha gli strumenti non è tanto difficile fare una ricerca no ripeto non non leggo tutti quanti i brani perché il termine è sempre lo stesso è sempre sheol che ricorre sotto vari punti di vista più più interessante andare a vedere le due citazioni del nuovo testamento che sono primo pietro 3 19 e efesini 4 8 soprattutto la prima perché la prima pietro 3 19 contiene quel brano anche cristo leggo dal 18 è morto una volta per sempre per i peccati giusto per gli ingiusti per ricondurvi a dio messo a morte nella carne ma reso vivo nello spirito attenzione e in spirito andò ad annunciare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione ok quindi c'erano la vulgata benissimo traduce in quo e tisqui in carcere eran spiriti bus venen spiriti no in galera quindi erano in carcere appunto per aver obbedito più la che è il termine greco no e no e quindi vedete c'era un carcere c'erano degli spiriti che stavano in carcere ecco questo carcere da cui deriva vedete in spirito andò ad annunciare la salvezza agli spiriti che attendevano in prigione quindi la discesa agli inferi no è da questo passaggio della lettera della prima lettera di di san pietro che è tratto quell'articolo di fede e poi abbiamo efesini 4 8 in cui troviamo questa citazione ecco aspettate un momento che disgraziatissimamente gira la rotella questi computer ogni tanto cominciano a fare i capricci sono un istante abbiate un attimo pazienza allora per questo sta scritto ascendendo in cielo ha portato con sé prigionieri vedete ancora ha distribuito doni agli uomini quindi c'erano dei prigionieri d'accordo che il signore si è portato con sé in cielo al momento dell'ascensione ecco quindi questi sono gli antefatti però come accennavo il limbo cioè tutte quante queste cose ci va bene questo certamente esiste ma questo è il limbo dei santi padri nessuno ha mai negato che esistesse un luogo di questo genere adesso non so è un pochino di tempo che non sono aggiornato con gli ultimi ritrovati della teologia non vorrei che nel frattempo insomma io sono un po' ho gli studi ormai datati a circa una ventina d'anni una ventina d'anni sono un'eternità per adesso perché il dottorato fatto nel 2005 credo quindi sono passati quasi 20 anni quindi non vorrei che qualcuno si sia azzardato a negare pure il limbo dei santi padri spero di no spero no però dice quell'altro no allora adesso a questo punto fatta questa rapida rassegna bisogna cominciare da Enzinger alla mano ad andare a vedere o a rivedere alcuni passaggi fondamentali che abbiamo già incontrato uno nel concilio di Lyon l'altro nel concilio di Firenze ormai siamo già uno era la lettera di Giovanni XXII l'altro era una costituzione di Pio VI ma il primo passaggio è del grande papa Innocenzo III sapete che il papa Innocenzo III era il papa contemporaneo di San Francesco fu quello dinanzi a cui San Francesco fece l'anticamera quindi sostando davanti a San Giovanni il Laterano allora non era ancora il Vaticano la sera del papa a supplicare che gli approvasse la regola poi fu Innocenzo III ad approvare appunto la famosa regola bollata dei frati minori che era andato dal papa a chiedere il permesso di poter vivere l'Evangelo attacca a capire cioè bisogna andare dal papa a chiedere il permesso di vivere il Vangelo vabbè comunque allora Innocenzo III nella lettera a Imberto di Hall che si trova nel Densinger nel numero 780 parla dell'effetto del battesimo è un passaggio molto molto interessante e io lo leggerei tutto d'accordo? anche se evidentemente il passaggio che interessa a noi è abbastanza circoscritto però il grande papa ci fa una bella rassegna sulla dottrina cattolica del battesimo guardate è molto lunga questa qui quindi andiamo a dargli un'occhiata allora affermano infatti che il battesimo viene inutilmente conferito ai bambini piccoli siamo nel 1201 quindi già allora ogni tanto qualche perdonatemi cornacchietta alzava la voce a dire che li battezziamo a fare i bambini ma guarda un po' che fastidio che dà questa cosa noi rispondiamo che il battesimo è subentrato al posto della circoncisione oh attenzione cosa rimando anche alle catechesi fatte l'anno scorso sul peccato originale il battesimo è subentrato alla circoncisione che veniva fatta guarda un po' dopo 8 giorni non dopo 50 anni dopo 8 giorni l'ottavo giorno veniva fatta la circoncisione guarda caso e nel catechismo dell'esempio decimo battezzare i bambini il più presto possibile non oltre il decimo giorno di vita tanto per rinfrescare un pochino la memoria no? perciò come l'anima del circonciso non andava perduta dal suo popolo così colui che sarà rinato dall'acqua e dallo spirito santo otterrà l'ingresso nel regno dei cieli oh attenzione qui c'è una citazione di Giovanni 3,5 perché a me mi viene poi un pochino di di quieto nervoso o meglio vorrei tanto il mio sogno è che si tratti di santo sdegno è difficile avere il santo sdegno però San Tommaso da qui nello stesso scrive in uno dei suoi passaggi che chi non si indigna quando viene sparata qualcuna grossa non è che c'ha la carità ma non c'ha l'amore per la verità allora amici ma sbaglio o il nostro unico Dio e Salvatore ha detto in maniera chiara lapidaria esplicita anzi apodittica nel Vangelo di San Giovanni se uno non rinasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio non può vedere il regno di Dio non può chiaro non è ma sì forse però poi c'è la divina misericordia che se inventerà qualcosa e se inventa qualcosa no no ha detto così ha detto il nostro Signore e oi boh chi è che c'ha l'autorità di poter andare contro un detto diretto di nostro Signore io tante volte tra secolo anche uscite che a volte vengono fatte anche da ahimè sono cose pubbliche quindi insigni i membri della della gerarchia che io io ascolto dico ma però poi la considerazione la devo fare per forza nel cuore perché con tutto il dovuto rispetto però tu sei soltanto un membro della gerarchia tu non sei mica il Padre Eterno come non lo sono evidentemente io nessuno di noi c'ha l'autorità di poter andare contro il Padre Eterno ma dico stiamo scherzando stiamo stiamo scherzando e qui subito subito il successore di Pietro dice colui che sarà allineato dall'acqua e dallo Spirito Santo colui che sarà allineato dall'acqua e dallo Spirito Santo otterrà l'ingresso nel Regno dei Cieli anche se il peccato originale attenzione veniva rimesso per mezzo del mistero della circoncisione circoncisione sappiamo bene che cos'è la circoncisione no? quando l'anno scorso abbiamo fatto il circo di catechesi a cui rimando sull'ipotesi circa il peccato originale ipotesi che non è l'ipotesi di Don Leonardo è una cosa che ha che ha attenzionato diciamo così la patristica per otto secoli non per una settimana perché le ultime ci stanno addirittura a San Giovanni Damasceno su queste che è il padre con cui convenzionalmente viene chiusa l'era patristica ma siamo molto avanti stiamo ai tempi del concilio alziamo oltre il concilio Costantinopolitano III Giovanni Damasceno ha anche combattuto contro gli iconoclasti insomma quindi siamo abbastanza avanti nel corso della storia no? la circoncisione rimette il peccato originale ma guarda un po' e come mai? questo faccio un invito all'ascolto ecco del vecchio ciclo di catechesi no? dice anche se il peccato originale veniva rimesso per mezzo del mistero della circoncisione e il pericolo della dannazione era evitato attenzione non si perveniva tuttavia al regno dei cieli che fino alla morte di Cristo è rimasto chiuso per tutti cioè guardate il genio con la circoncisione non te ne vai all'inferno dove vai però? nello Sheol nel regno dei morti in attesa della redenzione perché per andare in paradiso basta la circoncisione ci vuole rinascere dalla guerra dallo spirito santo e quando non c'è manco la circoncisione uno potrebbe pure pensare no? andiamo avanti ma per mezzo del sacramento del battesimo imporporato dal sangue di Cristo perché attenzione che il sacramento del battesimo è imporporato dal sangue di Cristo non è semplicemente acqua eh dal costano di Cristo non è uscito soltanto l'acqua è uscito l'acqua è il sangue i due sacramenti dei morti si chiamano così cioè quelli ordinati alla remissione dei peccati che sono il battesimo e la penitenza sono bagnati del sangue di Cristo perché il sangue è stato versato per molti per molti per molti non c'è scritto per tutti nel testo nel testo greco eh comunque pazienza romultis in remissione in peccatorum per la remissione dei peccati per mezzo del sacramento del battesimo imporporato del sangue di Cristo è rimesso il peccato e si perviene pure al regno dei cieli la cui porta il sangue di Cristo a misericordiosamente aperto per coloro che credono in lui ah hai visto come funziona la misericordia la misericordia funziona con il sangue di Cristo per cui se tu non sei imporporato dal sangue di Cristo la misericordia non funziona non l'ho deciso io né l'ha deciso nessun altro l'ha deciso domine Dio e contro questo non è che c'è qualcuno che può andare contro o che può inventarsi dottrine alternative non è pensabile infatti che vadano perduti tutti i bambini piccoli di cui muore ogni giorno una così grande moltitudine senza che Dio misericordioso che non vuole che alcuno perisca non abbia procurato anche per loro un qualche rimedio per la salvezza qual è il rimedio? il battesimo il discorso di Innocenzo III in questa lettera è una apologia a favore del battesimo dei bambini e che cosa sta dicendo? muoiono i bambini piccoli? mica il nostro Signore potrà permettere che questi vadano in qualche modo perduti o quantomeno non arrivino in cielo ci ha pensato e come? bisogna battezzarli ciò che adducono gli oppositori che cioè bambini piccoli non vengono infuse la fede la carità o le altre virtù dato che essi non possono consentire non è affatto ammesso in modo assoluto di più ed infatti non è vero perché vengono infuse e come la fede la carità le altre virtù in una consacramento del battesimo poiché alcuni sostengono che in virtù del battesimo anche ai bambini piccoli è rimessa da colpo ma non è conferita la grazia non è vero è anche questo e altri non pochi dicono che viene rimesso il peccato e vengono infuse pure le virtù a questi che le possiedono così come ambito non invece ancora nel loro esercizio esatto finché non giungano all'età adulta e questa è la posizione corretta quindi vengono infuse tutte le virtù come abiti non ancora evidentemente capaci di essere esercitate perché non hanno ancora libero arbitrio non ne possono esercitare le virtù ma saranno capaci di esercitarle quando hanno l'uso della ragione noi diciamo operando una distinzione attenzione questo è il passaggio che ci interessa che vi è un duplice peccato quello originale cioè e quello attuale questa è proprio la distinzione fondamentale cioè da catechismo noi dobbiamo saper distinguere il peccato originale dal peccato attuale il peccato originale che è contratto senza il consenso perché è trasmesso nell'atto del concepimento peccato trasmesso ma non commesso si dice tecnicamente e quello attuale che è commesso in virtù del consenso quello attuale attuale significa commesso attraverso un atto un atto consapevole e volontario questo è il peccato che commette un uomo che c'ha l'uso della ragione il peccato originale quindi che è contratto senza il consenso senza il consenso è rimorso in forza del sacramento a questi scienziatoni che non vogliono battezzare i bambini che colpa c'ha il ragazzino che nasce col peccato originale nessuno ha consentito no però si trova nei guai quindi ha consentito il sacramento del battesimo no ma è l'unico modo per togliere dei guai guardate l'intelligenza cioè guardate in questo santo papa non proprio la luce della fede che splende anche la 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 genialità dei ragionamenti teologici teologici che fanno il peccato originale viene trasmesso senza il consenso e quindi senza il consenso è rimosso in forza del sacramento mentre quello attuale che è contratto in virtù del consenso non viene affatto sciolto senza il consenso tu li devi confessare confessarti è un atto volontario e devi chiamarlo per nome e cognome il peccato e devi essere nel buco pentito sennò quel peccato non ti viene rimesso la pena del peccato originale attenzione è la mancanza della visione di Dio pena originalis peccati testo latino originale est carentia visionis dei mentre la pena del peccato attuale qui quando si parla di peccato attuale non si parla del peccatuccio di gola cioè si parla del peccato attuale in senso forte quindi il peccato mortale il peccato grave è il tormento dell'inferno eterno attualis vero pena peccati est genne genne perpetue cruciatus ah quindi la pena del peccato originale è la mancanza della visione di Dio l'ha detto un papa in un atto magisteriale che sta nel densinger non sta nel dimenticatoio e come la mettiamo quindi vuol dire che un bambino che muore non essendo battezzato lo vede o non lo vede Dio ma guardate che queste cose sono di un'importanza capitale pensiamo per esempio all'autotreno di aborti che vengono commessi molti purtroppo volontari ma anche quelli spontanei una coppia di genitori se non è formata su queste cose dice vabbè c'è avuto un aborto spontaneo che cos'è un aborto spontaneo amici c'è l'anima dentro un feto oppure non c'è ha contratto il peccato originale quel feto oppure no è stato battezzato oppure no e se l'anima c'è se ha contratto il peccato originale non è stato battezzato quella che è già una persona noi non siamo mica come come quelli che pensano che un feto è un grumo di cellule voglio ben sperare che non lo è dove sta quell'anima dice e come faccio a battezzarla certo che non la puoi battezzare ma non è difficile trovare uno strumento sostitutivo io consiglio sempre di far celebrare una messa per un bambino non nato perché non ci servono altre cose tu dici ma la messa di per sé viene applicata per le anime del purgatorio per diminuirgli le pene nella durata o nell'intensità ma questa non è una messa celebrata in questo modo è una messa che viene che viene celebrata con la formula ad mentem offerentis cioè chi la fa celebrare chiede a Dio che a quella creatura siano applicati deve essere questa l'intenzione gli effetti del sacramento del battesimo che non ha potuto ricevere non perché non ce l'ho portato a farlo battezzare questo sarebbe un problema ma perché non è stato materialmente possibile in nessun modo battezzarlo è che Dio assecondi questa richiesta non c'è nessun dubbio dice ma perché la asseconda attenzione perché fare una cosa di questo genere riafferma la necessità della rinascita dall'acqua e dallo spirito perché tu devi fare un atto positivo di volontà tra l'altro attraverso un ministro quindi attraverso l'offerta di una messa che attesti davanti a Dio tu stai chiedendo a Dio guarda che se questo non gli arriva nel sacramento del battesimo questo poverino senza colpa sua sarà privato a tempo indeterminato non per tutta l'eternità come vedremo ma a tempo indeterminato della visione beatifica ma perché? però perché è rinato dall'acqua e dallo spirito noi sappiamo che Dio è come dire agisce ordinariamente attraverso i sacramenti ma non ne è vincolato ma in che senso non ne è vincolato e qui bisogna smontare quelli che negano l'esistenza del limbo perché dicono ah e che sarà mai e Dio può anche bypassarlo un sacramento può fare quello che vuole attenzione sì che lo può fare ma quando però? quando è impossibile riceverlo? se una persona sta per morire vorrebbe confessarsi cerca un confessore ma non lo trova non ci va nessuno a confessarlo e fa davanti a Dio un atto di dolore fatto con tutto il cuore ma non si può pensare che quello se ne va dall'inferno cioè non si può ma non si è confessato attenzione non si è potuto confessare diverso è il caso di chi potendo farlo non lo chiama il prete o se il prete ci va non vuole confessarsi questo sta in pericolo questo qui quindi Dio non è legato dai sacramenti ma Dio non ha istituto i sacramenti così a capriccio dice vabbè ci stanno se li prendi bene se non li prendi va bene lo stesso perché tanto ci penso io ma non funziona così Dio non fa le cose fatte in questo modo non è un optional un sacramento lo dicevo anche durante l'omedia di questa sera non è un optional un sacramento vabbè se lo posso prendere e se no che sarà mai la cresima e che me la faccio a fare se caso me me la faccio quando mi sposo non sono un optional i sacramenti c'è una cosa vabbè se c'è bene se no che gli fa sposamme e che me devo sposare a fare viviamo insieme come marito e moglie ci siamo presi tutte le nostre responsabilità per carità facciamo le persone serie rispettose se vengono i figli li accogliamo non abbiamo nessuna intenzione di dare vita ad una unione instabile per il quanto che ci riguarda è così tutta la vita e quindi che vedo sposare a fare sto decodificando la mentalità corrente che c'è in giro adesso qui tu stai dicendo che il sacramento del matrimonio è vabbè convivo per 3-4 anni fanno tutti così io veramente proprio il dolore che ho nel fare queste cose no perché allora capite ti capita una cosa di questo genere tutti quanti possono sbagliare poi oggi figuriamoci nel contesto sociale in cui viviamo figurati no uno inizia una cosa di questo genere con leggerezza ma poi per esempio decide di sposarsi e fa un cammino di conversione per esempio quantomeno cominciano a vivere in castità i conviventi io ho conosciuto situazioni la cosa migliore da fare anche il dubbio che sia così specialmente quando non si hanno figli è molto gradita al Signore secondo me uno dei modi con cui si può sperare di ricevere una bella benedizione dal Signore nonostante lo scandalo che si è dato è che ognuno se ne torna a casa sua prima del matrimonio se non ci stanno i figli piccoli di mezzo ovviamente perché ci stanno di mezzo i figli piccoli è meglio che vivano in castità ma come succede nella stragrande maggioranza dei casi perché poi se non ci sono come dire iniziative a livello ecclesiali cioè se dall'alto non viene fatta una legge e a mio avviso si dovrebbe fare nel senso di dire tutti quanti benvenuti col sacramento del matrimonio perché per carità di Dio cioè non vogliamo scoraggiare nessuno però se tu hai scelto altro che peraltro questa è la disciplina presente per chi si sposa prima in comune perché chi si sposa prima in comune deve avere la dispensa del vescovo per sposarsi in chiesa lo sapevate perché perché essendosi sposato al comune ha compiuto un atto grave di disprezzo di un sacramento un battezzato non può avere nessuna unione matrimoniale fuori del sacramento del matrimonio il fatto che questa dispensa sia diventata un proforma non fa niente ma la mensa della chiesa è io non ti faccio sposare in chiesa se tu non mi dimostri che sei pentito di questa cosa qui che hai capito il guaio che hai fatto e che ne chiedi perdono umilmente a Dio e che vuoi andare a riparare quella quota tra le gambe mi si perdoni l'espressione nel senso umiliato pentito perché quella è una cosa grave quella che hai fatto davanti a Dio non è una barzelletta questo per dire no cioè che i sacramenti sono un'opzione ma immaginate non ha una coppia direi di ragazzi come capita quasi sempre ve lo dico io sono parroco sono quindi tu glielo puoi dire guarda che se non fai così difficile che poi arriverà la benvenzione di Dio si 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 poi fanno come ci pare tranquillamente pessimo gusto tra l'altro a mio avviso andarsi a sposare dopo una circostanza del genere con l'abito bianco pessimo gusto perché l'abito bianco ha un significato fratello mio fratello è la mia ha un significato e a mio avviso non è una cosa fatta fatta bene come dire andare a sbandierare una cosa che non è che sai so fare i miei quello che ho fatto lo sanno tutti quello che hai fatto perché con l'invenzione ho fatto pubblico cioè sono strano io sono troppo cattivo sono troppo severo sono speriamo accetto d'accordo io personalmente cioè vedendo certe cose non posso fare a meno di fare certe considerazioni è diverso se tu fai un percorso e quindi c'è un percorso dove io farò anche dei gesti penitenziali perché il Signore perdona i peccati ma perdona chi ha pentito e a chi è disposto anche a fare dei gesti riparatori specialmente quando tu hai vissuto una cosa che ha dato pubblico scandalo lo è da un punto di vista oggettivo che non si è percepito come tanna nella coscienza sociale oggi nessuno si scandalizza tra virgolette per una coppia convivente ma il fatto in sé per un battezzato è uno scandalo proprio perché tu mostri pubblicamente una condotta gravemente peccaminosa agli occhi di Dio come normale e il motivo per cui adesso non si scandalizza più nessuno per questo è fatta qui è la loro reiterazione continua 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 la reiterazione continua di un comportamento determina questo è noto in sociologia determina la sua come dire la sua acquiescenza sociale il suo beneplacito sociale diventa un comportamento prima tollerato poi accettato o addirittura anche incomiato in certi casi questa rassegna tanto oggi non andiamo oltre l'innocenzo terzo perché basta così per far comprendere la mentalità che oggi gira cioè la mentalità che oggi gira è che i sacramenti è come se non ci fossero d'accordo cioè sono nella migliore delle ipotesi una cosa che uno fa per tradizione cioè abbiamo convissuto un po' di anni vogliamo fare una bella festa sposiamoci ma che quindi ho disprezzato questa cosa ho vissuto come se non ci fosse un bel giorno dico vabbè la facciamo così con oscialanza abbiamo fatta capito cioè sul sacramento del battesimo bisogna farsi qualche qualche domandina e così voi capite se una persona capisce bene certe cose non porterà i figli a battezzarsi quando hanno un anno o due o neanche tre quattro mesi e la cosa principale non è il ristorante non lo è il ristorante perché per battezzare un ragazzino ci vuole un genitore nemmeno tutti e due uno basta basta che l'altro sia d'accordo e un padrino nemmeno o una madrina nemmeno tutti e due come si faceva un tempo un tempo i bambini si partorivano dentro casa se il bambino sopravviviva dal parto che c'era mezzo miracolo dopo due ore dopo che l'avevano bello che lavato il padre lo prendeva col compare o con la commare andavano in parrocchia fare il battesimo ci vogliono dieci minuti non di più senza correre un quarto d'ora to senza correre era finito tutto era finito tutto non c'è bisogno di fare pranzi contro pranzi cose cioè se poi uno vuole fare una bella festa come si faceva in qualche famiglia va bene quando sto ragazzino copperà il compleanno facciamo una bella festa che è innanzitutto la festa per il fatto che è diventato figlio di Dio e poi la scusa è anche il compleanno cioè le cose si possono fare in un altro modo fermiamoci così oggi e cominciamo un attimo spero che questa puntata diciamo così di questo ciclo di catechesi voglia sia anche uno stimolo perché io credo che questo sia importante anche nel ministero di un sacerdote non semplicemente dire le cose come come stanno ma anche stimolare una una riflessione comprendere anche la coerenza ferrea che al loro interno hanno le verità di fede in cui crediamo perché una convinzione radicata e operativa non te la smonta nessuno quando questa manca tutto diventa vacuo flebile debole certamente incapace di di confrontarsi e di e di sostenere vincere la lotta contro il moderno più che ateismo proprio indifferentismo nichilismo e proprio menefreghismo assoluto di quello che è la fede e la dimensione religiosa della vita va bene ci aggiorniamo amici alla prossima puntata intanto Dio vi benedica e la Madonna vi protegga